Eeeh, benvenuti ragazzi, sono Ciseste e oggi ragazzi sono emozionatissimi perché c'è una cosa molto molto bella che mi hai fatto, l'hai mai fatti video, cioè video si, caricato magari, l'avete visto, poi non lo so, comunque ragazzi siamo qua per un video super pazzesco, facciamo su Corri l'evento Inventional Q2 Battle of Icassi in una delle tre giornate, domani non posso perché sono in vacanza, perché sono in vacanza per un giorno solo, in vacanza normale, in vacanza normale, in vacanza normale, Ragazzi è, eeeh, i pilotti della cassa, cioè che forse, Provo eh, Provo ragazzi a quel fico con la cassa, ragazzi ecco, almeno evento, eeeh, sono 5, ragazzi, ragazzi, io ho fatto tutto, 105 mila soldi, cioè monete per, per si pare, i ragazzi non vuoi, ma io ragazzi continuo ragazzi, non voglio perché, i miei, così tanti soldi, non farò, altri video su Corri l'evento Invention, ma, video si, su Corri l'evento Invention, è abbastanza lungo, perché, eh, deve essere, non posso fare live, quindi, da cellulare, quindi, quindi, ragazzi, io non voglio! Sento nel, serie, vinto team, ass, in una, in una, in una, in una, in una qualsiasi sessione, di codica giornaliera, per assicurarti, il processo, aggiene, decisivi, successivi, vabbè, ebbene, ragazzi, io non so, eh, sono tutti i primi, sono anche io, ragazzi, poi, per la gara, 1,5, ragazzi, mi sa che, ancora, nessuno ha partecipato, ragazzi, ragazzi, con semplici le cose di vincere, non so se si racconta il computer, ah, ragazzi, poi, uno mi ha anche regalato, non so se lo avevo spiegato in un video, ma, quando, non, mi faceva partecipare, al, fuori, qual è la coppa del video, a questo, eh, mi ha dato, tre casse d'oro, e tre, eh, 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 e, eh, e, devi, e devi, e devi, e tu, ragazzi, sono con un moto, un sosa, 17 bandiere, il suo record è 17, io sono 18, infatti, 18, siamo al circuito di Spagna, Bababal, Salone, in Catalogna, cominciamo subito, ragazzi, questa, cosa cambiamo, subito le qualifiche, ragazzi, se che, è il primo ragazzo che voi vedete, qua, ragazzi, mi interessa solo partecipare, e, siamo, molto indietro, infatti, 14, diciamo, Nikita Mazepin, vabbè, se lo sono, 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 con, Mazepin, e, Schumacher, non sono molto bambi perché, non, sono, ah, però, il mio, dicennio, dicennio, di, chitennio, dicianno, visimo, eh, cioè, rispetto, proprio, cioè, rispetto, alla famora, finita, però, vai, ragazzi, comincio con, con, andare piano, Ok, grandi No, Mick, no, Mick, no Aspetta che se ho vogliato Prova Schumacher Insinuarsi all'interno Vai, no, te vai, te vai, te vai, te vai Te no, te no, te no Te sì, vai, vai, grande sorpasso Grande sorpasso Da parte di Mick Schumacher Grazie a me perché Solo io che comando No, uh, mia, che cosa ha fatto A parte su Mick Schumacher Mick Schumacher Passa anche con lui No, abbastanza carburante Comunque sì, grande gara Grande gara, no, Mick Schumacher Ok, bene, grande Grande, 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 grande Sembra che qua c'è Un po' lag Forse per il video, però non lo so Anche se lagga anche qua C'è una propaganda che fa qua È La peri finita Io tengo peri finita Perché dai, meglio Un po' siano tutte le gomme A gomme, a gomme, a gomme ardo Magari, ok, bene Uh, non ho città Mick Schumacher Il Mick Schumacher Della scuola avversaria Attenzione, mamma mia Adesso qua un po' di pozzini si recuperano Per i pit stop che ci sono E dai, Mick Schumacher Non ha potenza Non ha potenza Non ha potenza ragazzi Non so quanto i pit stop ci saranno In questo video E ragazzi Magari rischierò Azzarderò Farò qualcosa di genere Ragazzi Però Non c'è bisogno Qua sei un po' a rischio Con Mick Schumacher Perché Perché Soprò un po' La cosa prima ragazzi Io le copro a posizione Cazzo a loro Adesso vediamo un po' se Non è box No, non è box Da quanto vedo io Quelli di Mick No, neanche Mick Schumacher Adesso farò un'altra box I miei Facendo col pit stop Appena A 30 perché Diventa rosso Arancione Non so che colore è quello Comunque Adesso si Adesso metterò la lega Marta Spingerò No Farò spingere a tutti Perché Non voglio perdere Le posizioni Per colpa di loro Per colpa di La partita Dai Let's go Siamo in testa Adesso Oh Mick Schumacher No Baccate L'avevo detto Primo Vabbè Siamo Indietro Perché Mick Schumacher Han fatto La sosta Attenzione soft Attenzione soft Per Nikita Mazepin Di Monotan Sosa Andrà più veloce Sì Però Attenzione Che potrebbe avere Un clamoroso Copicina Potrebbe avere Un clamoroso Copicentato Mazepin Grazie per lui E per qualcuno Ti ha piaciuto velocemente Perché Assoggiando la miscina magra Può La standard E poi Quando E poi Quando E poi Quando Una Dei box Magari Metto La grassa Perché Non so se Sbagliato Però Grande Perché Sì Perché Se Non Sbagliate Tutto Si Mi mando Ok Va bene La gara Perché Andata male Però C'è Hanno C Mazepin È di livello 5 Schumacher È di livello 4 Non so Di che livello Sono Vabbè Viscita C'è Hanno Viscita Attenzione Quali Interne Curva Mamma mia Mamma mia Mamma mia Un box 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 Per Mazepin Metto La miscina La grassa Per Non Fammi Scappare Quello Che È Hai Box Ed Mi Rientra Appena Davanti Appena Davanti Grande Non Devo Fammi Scappare Mazepin 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 Colui Ultimo Colui Molto 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 Indietro Dopo A filo Mi è uscito A filo No 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 Sì Per lui Dai No 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 Facciamo All'ultimo Giro Perché Vincere No Però Per l'ultimo Giro Insomma La grassa Per Tutti Che 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 La varia Io No Sicuramente Grande Pro Grande Da parte Nostra Perché Se Mick Schumacher No Sicuramente Non Riuscirai Un po Un po Non Riusci Perché Sono Molto Inietro Non Penso Però Il grande Gra Perché Perché I punti Li portano a casa I punti Un po' Si porta a casa Si porta a casa Per fortuna Schumacher Un ponticino Quello Indoppiato Fatto Sdoppiare Grande Che Sdoppiato Che lungo Che E Beh 8 Punto Porta a casa Alla mia Carissima Scuderia Che Porta Il mio Nome E Il Cognome Cos'è Che Le bandiere Non Si Portano Perché 5.000 Per ogni Gara Mi Portano I soldi 2.000 Ragazzi E Con una bella Garetta Sono Nella zona Troppo 50 Giocatori Circuit Del Porto In Francia E A Dopo Vi faccio passare Le qualifiche E tutto Let's go Grazie Scusate Perché Ho Uno Che Ha Il Record 18 Ma Le bandiere Sono A 17 Quindi O E Calato Lui Sta Calando O Magari Siamo Un po' Perché Ho Siamo Steguito Però Sono Che Molto Scasso E No Però Non è Scasso E Fortissimo E Fortissimo Con Colui No Ah Si A Forte 20 Ah Si Può Anche Ecco Perché Ecco Perché Ecco Perché Capito Posso Anche Gli Altri Adesso Dopo 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 Ho Ovvio Che Si Poserà Anche 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 Altri Qualcun Mi Che Ma Cato Il Suo Grazie Per Tutti Grazie Per Tutti Grazie Per Niente Niente Grazie Non Stare La Grazza Mettiamo Qua Per Mick Schumacher No Non Ce Da Fa Che Fette E Lewis Hamilton Fette Le Hamilton Che Hamilton Che Che Pedestinato Non Diciamo Uh Dentro 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 Mick Schumacher Vai Dentro No Niente Fette L'atto Lungo Attenzione Qua Passo Sebastian Fette Di Forte Di Potenza Si Buttano Fuori Attenzione Qua Che Si Rallenta Moltissimo U E Metto Me Box E Metto Me Box Why U U A Mettere Le Gomme Codetto E Provo U A Mettere Le Gomme Potrebbe Essere Che Ha Sbagliato Ragazzi Metto Ma Maga Maga Perché Solo Quello Dietro Mix Schumacher Nikita Amate Che Mettono No Dai Mi C'è Mettato Standard Che Magra Che E Siamo Alla Distante Di Quasi Di Poco Un Secondo Circa Devo Guardare Dietro Ragazzi Non Posso Non Perdere Di Vista Questi Qua Attenzione Qua Attenzione Qua Mamma mia No Amato Ancora Soft Uova Che Non Ho Visto Qualche Vente Qualche Maria Sono Ancora Ragazzi Se Io Rientro Così Box Perché Adesso Qua Spingerò Con la Macella Grass Al Prossimo Giro Fino Al Giro Che Adesso Passa Mamma mia È Perché Infatti Adesso Adesso Deve Andere Box Hamilton Te Ha Tecnica Assurda Adesso Deve Box Bravo Adesso Metto La Ragazza Per Un Giro Solo Per Un Giro Solo Se Anche Masipin Riuscirà Perché Tanto Box Hard Box Hard Hard Sono Le Provo Tu Alonso E Lui O Con Alonso Mi Che Loco Con Vai No Alonso Sotto Qua 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 Niente E Masipin Sono In Tese Per Adesso Uh Ancora Le Soft E Mito Mamma mia Qua Rischiano Qua Rischiamo Io Non Lo 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 Passa Perché Adesso Anche L'altro Hard No L'altro L'A Hard Sa Che Non E Mito Mi Spagnolo Sta Stificando Hamilton Anche Se Non Penso Che Dura Fino La Fine Ma Ha Chesso André Box Ragazzi Vi Avviso All'ultimo Giro Ragazzi Let's Go Ragazzi Con L'ultimo Giro Riesco Vinco Il Non Vincendo Vinco In Senso Di Team Il Gran Premio 8 Punto Come sempre E 1 Prima Prima è 7 6 Punti 8 6 Dai Prima Ragazzi Prima Ragazzi Con Su Maka Che Si Potrebbe Meritare Alla Fine La Conquista Della Prima Prima Sempre Grande Perché Mi Conquisto 10 Mila Monete Esalgo Nella Classifica Mondiale Da Giugno P1 12 Mila Monete Sono Fly Ma Niente Conquisto 10 Mila Monete Ragazzi Campi Noti E Let's Go Risultati Che Ragazzi Ho messo Ocon E Gasly Ma Sembra Che Ocon Non Abbia La Stop Perché Non Ho Ma Usato Però Sembra La Stoffa Ragazzi Per Adattarlo Bene Un bel Autocontrollo Per la Prima Volta In Questa Macchina E Dai Mettiamolo Subito Pronto Per Il Giro Ho Giusto Deschi Vorrò Anche C'era Un po I Video Però Ragazzi Perché Occorre Ma Qui Però Dai Casly Che Sei Avanti Te Monaco Non si può Vedere Molto Bene Perché L'ho Scelto Anche I Piotti Un po Scarsi Anche Se Anche Età Maggiore Quello Quello Che Scelto A Primo Giro È Del Carbonato Se Possiamo Se Possiamo Ammettare O No Dentro Non si Viene Niente Tensione C'è Anche Maz Pink Ci Prova Però Dai Io C'è Gasly Ragazzi Per Parti Morte Vi Tengo Tutto No Prima Cane Come Poi C'è Un pezzo È Appena Andato Devo Passare A box Per Farlo Parare Ragazzi Io Non So No Perché Tanto Adesso Faccio Passare O Con Un Passo Con Un Passo Non Passo Passo Gasly Non ci Volevamo Non ci Voleva Proprio Adesso Perchè In Questo Giro Dovevamo Inserire A box A top Resco Grazie Beh Adesso Con L'ultimo Giro Che È Comunicato Da un Bel Pezzo Beh Perdo Però Conquisto Dei Punti Un Bel Tre Punti E Un Bel Punticino Che Insomma Fanno Quattro Punti E Noi Punti Altra Squadra Quella Varsaria Mi Nel Poche Gare Da Fare Con Questa Il Loro Con Questa Dicimila Monete Mi Fiamo A 12 Nella Mondiale E Sono Per Più Potrebbe Pio Ragazzi Ragazzi Questa Gara Ve La Salto E Ci Vediamo Dopo La Prima Gara Ma Poi Non Non Viene I Risultati Perché Quasi Corta A Dopo Uno E Anato In box Attenzione Potrebbe Avuto Qualche Barria E Potrebbe Vincere La Gara Come Alta Volta Thanks Thanks Guys Thanks Guys Molto Bene Cosa Ci Punta La Vista Sotto Toneria Ben Dicimila Spoke Vincevamo Dicimila Monete Adesso Vediamo Un po Adesso Ocon Si è presa La parte Propriota E Gaslise Si è presa Propriota Adesso Un po Con Questi Punticini Dove Sono Colificato Settimo 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 Bene 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 Su 15 Bene Bene Sono Comunisco Cazzi Vediamo Un po Questa Cana Come Andrà Diciamo Taglio Anzi Facciamo Cosa Facciamo Dere Bene Qualifiche Come Andranno Adesso Mi sono Un po Allunzato La Microfona Quindi Mi sentite Anche Un po Che No Basso Però Spero Di No Allora Magari Anche Un po Che No Male Spero Di No Volevo Fare Una Line Ma Non Non L'applicazione Giusta Per farla Sono Con Alessandro Rag Paese Bassi Circuit Zandvoort Olanda E un po Piove Mi Tettuali Pio Già Mamma mia Anche Sembra Bagnato Un po Come Verranno Ne Que Che Che Io Non Sono Mai Abbetuato Molto Vicini Siamo Però Ocon Grande Ocon Allora Le Prendimento Ragazzi Io Metto Le Wette Metto Le Wette Non Non Io Ragazzi Metto Le Wette Non Ho Paura Paura Non Pocco Sato Nel Ti Metto Le Wette Raga Mettere Wette Mettere Wette Subito Let's go Let's go Adesso C'è Adesso Pugano Puso A Piovere Non So Se Ci Sarà L'opportunità Di Faccio Passare Ocon Ocon Si è Passato Avanti Ok Bene Adesso Non so Se Ci Daranno La Possibilità Di Andare Box Oppure Ragazzi Allora Io Così Ragazzi Vi Aspettate Sposto Da parte Il Microfone Tutto Vi Sposto Qua Sulla Partito Del Marmo Sono Posso Abbastanza Scomodo Non Dico Dove Perché Andi Silenziose Ragazzi Adesso Vi Tagli Tutto E A Dopo Let's Go Ragazzi Ho Fatto Una Tentica Molto Strategica Ragazzi In Quello Sono Fatto Una Bene Porta La Partenza Come Vite Tutto Gra Con Una Miscera Forte 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 E Poi Ho Fatta Non Finire Con Tanta Forte Cioè Ho Vincere Ragazzi Let's Go Ultimo Giro Questo E Buon Amore Con Ok Che C'è Gas Leak E Box Botas E Dai Viene Un po' Se riesco a Fare Qualcosa Dai Un po' Se riesco A sopressarlo Dai Bot Dai Con Ce la Fai Dai Mamma Mia Grande Sto Aprendo Io Grande Con Grande Continua Così Proprio Assicurato Grande Con Grandissimo Grandissimo Diciottesimo 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 Sette punti E L'altro U Tre punti Sette Tre punti Dici punti Non si Non so Faccio il caso Così De grandissima Gara Grande 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 Ho vinto Ho vinto Dai Avanti Adi 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 Punti Dai Ben Diecimila Monete Continua So Che Sto Ci sono Grande 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 Trentatumila Con Una Cassa Condicesimo In Ragazzi Prossimo Round Prossimo Round Prossimo Round Prossimo Round Non Me lo Dicono Io Ragazzi Sono Junior Sono Undicesimo Premi Ragazzi Per adesso L'undicesimo Ha Una bella Ok Ragazzi Non so Sero Libero Sero Libero Sero Libero Il giorno Domani Potevo farlo Di sera Però Non sono Libero Quindi ragazzi Magari Non Poteciperò Io Spero Participare Perché Tutti Saranno Poteciperanno Adesso Magari Poteciperanno O Magari Non Poteciperanno Adesso Comunque Io Un bacione Nel vostro CD 17 E' Tutto Ithgan 17 Tra Basso Y Tra Basso Official E Al prossimo Video Ciao Ciao